Un altro ondo di calcio in Serie C volge al termine, almeno per quel che riguarda la regular season, tra gioie, emozioni e momenti difficili e naturalmente delusioni. C'è chi ha lasciato la categoria in entrambi i sensi, da promosse in Serie B o retrocesso addirittura in Serie D. E chi invece sarà protagonista della post-season dei play-off e dei play-out, la reggiana promossa in Serie B, Montevarchi retrocesso in Serie D, i principali verdetti del girone B di Serie C, la cui regular season si è chiusa nel weekend, erano già conosciuti. Ai play-off volano Cesena, Virtus Santella, Carrarese, Gubbio, Pontedera, Ancona, Lucchese, Siena e Rimini. Ai play-out Vispesaro, Alessandria, Sandonato e Imolese, retrocesso appunto in Serie B il Montevarchi. Catanzaro promosso già da qualche settimana con Viterbese e Fidelisandria retrocesso nel girone C. Ovviamente imballo ancora il discorso dei ricorsi. Ai play-off volano Crotone, Pescara, Foggia, Autagio Cerignola, Picerno, Monopoli, Latina Potenza e Juve Sabbia. Sfugge l'obiettivo play-off per la formazione di Ezzurino Capoanno con il Taranto. Ai play-out Gelbison e Messina. Nella girone A, la Feral Pisalò conquista la storica promozione in Serie B dopo una cavalcata davvero emozionante. Ai play-off, Lecco, Pordenone, Prosesto, Padova, Vicenza, qualificato in quanto vigente della Coppa di Lega Pro. Virtus Verona, Renate, Arzegnano e Novara per Golettese. Ai play-out, Mantua e San Giuliano City. Albinone F e Trestina retrocessa invece in Serie D il Piacenza che già ha annunciato di voler attuare un ricorso.